Comincio a disegnare da bambino Come tutti i bambini Poi per l'adolescenza, l'età giovanile, le cose della vita Vai in giro, vai a lavorare e non disegni più Purtroppo nell'età quando i capelli cominciano a diventare bianchi Alcuni riprendono le cose infantili E quindi cominci a scarabocchiare con la matita Poi provi, tenti, butti via, ritenti e qualcosa poi viene fuori Essendo nato in un luogo dove venivano adormeggiare negli anni cinquanta Un sacco di barche da pesca di Chioggia Qui a San Pietro di Castello venivano tutti i chiogiotti A passare la settimana e dormivano in barca sotto i ponti Sul ponte di San Pietro C'erano ancora i bragozzi motovelici C'erano una quantità di battelli, di toppi, di barche del genere Io ero bambino e questi personaggi mi hanno subito colpito Per la loro enorme originalità Rispetto alla gente del popolo veneziano Questi qua erano molto diversi E quindi l'amore per queste barche, per questi tipi Per questa vita che facevano questi individui Mi ha portato alla passione per le barche Poi barche a vela, barche a remi, pesca Se illustri e fai molte illustrazioni Ti viene anche voglia di scrivere Tanto è vero che adesso faccio i disegni Con la di lascaria ampia già sotto il disegno Ok È un lavoro di descrizione, di illustrazione e descrizione Allora il topo comincia come la barca di Porto per me Avevo 24 anni, 25 circa Che mi sono fatto costruire un topo Però prima avevo già un bragozzo a vela E quindi ho fatto il topo e l'ho venduto quest'anno Quindi sono quasi 40 anni, 39 anni di topo e 5 di bragozzo Quando hai una certa età poi magari ti viene anche voglia di ricordare queste cose disegnandole Quindi nasce il libro sul topo Racconti quelle cose che nell'arco di una vita Più volte gli amici quando racconti come si faceva Come si fa Storico Ti dicono ma dovresti scriverle queste cose Bisognerebbe che le scrivessi Allora uno magari viene invogliato a scriverle Allora Cristina l'ho conosciuta quando l'ho messo su bottega L'ho conosciuta perché aveva la barca qui al di Porto bellico Dove l'ho tenuta 40 anni anch'io E poi uno che mette su una bottega di libri di mare Non può non diventare un punto di riferimento Per uno che già raccoglievo libri sull'argomento da anni Quindi è stata una cosa quasi ovvia I libri si fanno quando si hanno gli amici che sono editori Perché un conto è lavorare per un libro e poi cercare un editore Un conto è avere un editore che ti dice perché non fai un libro Allora la faccenda diventa molto più fluida e più semplice Anche per i contatti Avere l'editore in città è molto più semplice che cercare uno fuori no? Avere l'editore in città è molto più semplice